Ciao ragazzi, oggi impariamo giocando da casa. Qui di fianco avete quattro mondi con ognuno delle rappresentazioni delle tradizioni di Natale. Cercate di conoscerli prendendo appunti. Alla fine dovete rispondere a un questionario numero due. A scuola condivideremo tutto quello che avete imparato e trasformeremo le cose in un gioco. Buon lavoro e soprattutto buon divertimento! Grazie a tutti!